Tempo di riapertura scuole. A Taormina la ripartenza è stata lo scorso 24 settembre. Il sindaco Mario Bolognari ha spiegato ai nostri microfoni come è stato affrontato il nuovo inizio e come si prospetta l'anno scolastico in stato di emergenza. Noi abbiamo avuto con la scuola un'interlocuzione continua perché come ricorderanno molti le norme sono cambiate continuamente. Anche questa questione dei banchi monoposto della quale è difficile capire qual è la razio perché se gli spazi ci sono e allora tutto va bene ma se gli spazi non ci sono o è monoposto o è biposto non è che cambia granché la questione. Comunque il problema qual è? Che ci sono due linee di fornitura. Una linea è quella ministeriale che va direttamente alle scuole e noi per il 50% abbiamo seguito questa strada. L'altro 50% invece attraverso i comuni. I comuni hanno una dotazione che è commisurata al numero di alunni e quindi anche alle richieste che noi abbiamo avanzato e abbiamo fatto una gara per 500 banchi, 500 sedie e una ventina di armadietti per arredare le scuole. Quindi il 50% è a carico nostro. Naturalmente le procedure di gara non sono così rapide e così semplici ne è facile trovare i fornitori. Quindi sia quelli ministeriali sia quelli comunali ancora non sono stati forniti. Quindi noi abbiamo dovuto adattare gli spazi agli arredi che avevamo disponibili fino allo scorso anno. Abbiamo plessi nelle frazioni, oltre che il plesso nel centro storico. Tranne in uno, dove abbiamo una scuola nella quale dobbiamo fare degli interventi molto consistenti nel tetto, messi in sicurezza, insomma tutta una serie di questioni molto complesse che hanno portato via parecchio tempo e ancora ne porteranno via, lì abbiamo avuto una carenza di due aule. Queste due aule le abbiamo reperite nel mercato privato, sono adeguatissime sono perfette. Io al primo giorno di scuola mi sono regato proprio in questa scuola dove c'è stata questa carenza e insomma le cose sono partite bene. Io penso che ci saranno delle difficoltà andando avanti perché i protocolli, come si è visto anche nel resto d'Italia, che regolano il trattamento dell'aula o della scuola dove eventualmente ci fosse un bambino o un insegnante positivo, questo insomma qualche problema lo pone. In ogni caso, in tutti i plessi, noi abbiamo ricavato un'aula Covid, diciamo così, cioè quell'aula che verrebbe utilizzata per isolare i casi che si dovessero verificare. aggiungo anche che con i sindaci del comprensorio abbiamo concordato di chiedere il rinvio dell'inizio delle lezioni dal 14 al 24 di settembre. Questo lo abbiamo fatto perché ci sono stati dei casi preoccupanti di contagio, soprattutto tra i giovani, ai primi di settembre, e quindi abbiamo pensato che avviare le scuole il 14 poteva significare aggiungere elementi di ulteriore preoccupazione. Devo dire che il rinvio al 24, che è stato accolto dai dirigenti senza problemi, ci ha aiutato molto perché ci ha dato più tempo per capire bene come gestire tutta questa materia. Ripeto, qualche difficoltà e qualche criticità ci può essere, ci potrà essere ancora nel futuro, però abbastanza gestibili finché le cose procedono così come stanno procedendo adesso.